Un diritto fondamentale Un diritto fondamentale La libera circolazione Delle persone Sul territorio europeo Molti fratelli tunisini Come tutti i fratelli Del Maghreb Che ci stanno insegnando Che ci stanno dando Dei grandissimi insegnamenti Grazie 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 Le frontiere che in nome Di un'omogeneità di Schengen Di un'omogeneità di questa Europa Fanno morire in mare Migliaia di persone Ma sono frontiere che ritroviamo anche qui All'interno di questa Europa Un'Europa che ha trasformato Il nostro paese In un enorme enclave In cui migliaia di persone Sono costrette a stare Liberti 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 Grazie a tutti